Amici di Sempioni News, anche per noi è tempo di bilancio. Quest'anno il maledetto Covid ci ha accompagnato ancora, ma nonostante questo siamo stati vicino ai cittadini, ai nostri navigatori, ma non solo, anche alle attività economiche, commercianti, imprenditori e associazioni. L'obiettivo era quello di stare vicino in un momento difficile. Appena abbiamo potuto siamo ritornati in piazza, siamo ritornati tra la gente ed ecco che a luglio abbiamo partecipato e vinto il bando per la gestione del Palio 2021 e questo da settembre ci ha accompagnato per tutto il mese. Abbiamo dato voce ai contradioli, alle diverse realtà e il 19 settembre abbiamo raggiunto 360.000 navigatori. Perché? Perché il nostro progetto era di inclusione, cercare di portare il Palio nelle case dei cittadini, perché purtroppo questo maledetto Covid aveva dato delle restrizioni. Ebbene, nonostante questo noi siamo riusciti a raggiungere tante persone. Detto questo, un altro momento importante sono state le elezioni amministrative. Abbiamo dato voce a tutti i candidati sindaci indipendentemente dal partito che rappresentavano. E la cosa molto bella, abbiamo seguito lo spoglio in diretta con gli amici di Prealpina e in questo ci ha dato molta soddisfazione. Perché insieme siamo riusciti a coprire tutto ciò che è l'asse del Sempione, da Ro fino all'Uino. Cosa ci aspetta per il 2022? Ebbene, nel 2022 Sempione News compie 20 anni. Prima come assesempione.info e poi Sempione News. Qual è il motivo del successo? Stare vicino alla comunità. E l'augurio più grosso qual è? Di ritornare alla normalità, per fare in modo di riprendere le relazioni, stare sempre di più vicino al territorio e creare e valorizzare le bellezze della nostra comunità. Auguro a tutti voi, ai vostri cari, buone feste. Grazie a tutti e alla prossima. A tutti i lettori di Sempione News, a tutti gli amici del mondo dello sport, del mondo del paglio, tanti auguri di buon Natale e di buone feste. Buon Natale a tutti. Buon Natale, buone feste, qualunque se siano e soprattutto auguri di un felice anno nuovo. Salutiamo il 2021 che ci ha aiutato a dimenticare il 2020, un anno di stasura per tutti. Speriamo che il 2022 sia un anno che ci riporti alla normalità. Mi raccomando, auguri a tutti. Auguri a tutti per un sereno Natale e buone feste. Volevo solo farvi gli auguri di buon Natale e di felice anno nuovo. Sempione News vi augura buon anno, vi augura un buon Natale da passare serenamente con le vostre famiglie. Auguri da Sempione News. Volevo augurare un buon anno nuovo a tutti i lettori di Sempione News. Tanti auguri di buon Natale e di buone feste e speriamo che sia un anno migliore. Buon Natale e tanti auguri per il 2022. Buon Natale e buone feste. In questo periodo difficile veramente di cuore auguro a tutti di passare delle serene feste in famiglia e di ritrovare tutti veramente all'abbraccio. Buone feste, ciao. Da tutta la redazione e il team di Sempione News un augurio che questo 2022 possa essere l'anno della rinascita, della ripresa e del ritorno alla normalità. Quindi da tutti tanti auguri e buone feste.